Buon pomeriggio a tutti, bentornati sui nostri canali. Continuiamo a fare controinformazione per tentare di aprire più occhi possibili, gli occhi di tutti coloro che continuano a mantenerli chiusi anche in virtù di un sistema informativo che è una vergogna. Io dico sempre, pensate se le immagini della carneficina di Gaza, del tiro al palestinese in Cisgiordania, delle violazioni di diritti, della strage di bambini, dei bombardamenti sugli ospedali che quotidianamente pubblicano alcuni siti o alcune pagine Instagram come IonPalestine e passassero nei telegiornali nazionali. Se i nostri telegiornali avessero il coraggio di mostrare queste immagini, cosa accadrebbe? Quanti milioni di italiani si renderebbero conto di quel che sta accadendo, della carneficina? Quanti italiani aprirebbero gli occhi? Quanti italiani si renderebbero conto che i massacri a danno del popolo palestinese non hanno nulla a che vedere con la lotta al terrorismo. È una scusa, come fu una scusa per la guerra in Iraq, come fu una scusa per la guerra in Afghanistan. La lotta al terrorismo non c'entra nulla, non è questo l'obiettivo principale del governo israeliano oggi. Anzi, utilizzano la scusa della lotta al terrorismo, della distruzione di Hamas, tra l'altro producendo il terrorismo di domani, massacrando i civili, per realizzare degli altri obiettivi. Ora io vi darò alcuni elementi per, diciamo, dimostrare questo ragionamento. Poi vi farete la vostra opinione. Partiamo da alcune dichiarazioni della Casa Bianca e dell'amministrazione americana. Biden, l'altro ieri, ha dichiarato Presidente Biden ritiene che la rioccupazione di Gaza da parte di Israele non sia la cosa giusta da fare. Dunque, un'eventualità per Biden non è la cosa giusta da fare, come neanche massacrare i civili ogni tanto fanno queste dichiarazioni, però non fanno niente. Una grande potenza che non fa niente, anzi, garantisce forniture di armi allo Stato israeliano. Comunque, questo ha detto Biden, dimostrando che l'eventualità di un'occupazione da parte israeliana di Gaza esiste. E il Dipartimento di Stato americano ha aggiunto, Gaza deve restare palestinese. Dunque, l'ipotesi di un'annessione alla parte israeliana della striscia esiste. Tra l'altro, ora sto indagando, sto studiando, su tutta una serie di questioni economiche e energetiche, perché c'è tanto gas davanti alle coste di Gaza. Ad ogni modo, è una scusa, ripeto, è una scusa il terrorismo. Adesso vi chiedo di guardare questo video, perché mi ha colpito Lorenzo Camera, uno storico che parla con cognizione di causa, bravo, coraggioso, e ha detto tutto questo rispetto a quel che sta avvenendo appunto a Gaza. Ascoltate. Stando a dati ufficiali dell'organizzazione Yesh Din, l'organizzazione israeliana Yesh Din vuol dire c'è giustizia in ebraico, la probabilità che una denuncia per danni arrecati a un palestinese da parte di un soldato israeliano si concluda con una condanna è pari allo 0,87%. Dunque, la quasi certezza dell'impunibilità. Si ricorderà forse nel 2009. Israele venne accusato di usare fosforo bianco contro i civili nella striscia di Gaza. Le autorità israeliane sdegnate dissero che non era vero, invece grazie a voi, grazie a giornalisti, in particolare del Times, venne provato. Israele fu costretto ad ammettere di aver usato il fosforo bianco nella striscia di Gaza. Dieci anni dopo c'è un altro momento importante in cui vennero bombardate una serie di case nella striscia di Gaza e vennero ucciso di civili. Si disse, come adesso sempre si dice, sono terroristi. Ebbene, anche in quel caso sappiamo che venne provato da giornalisti che si trattava di otto civili. Sappiamo nel caso di Shirin Abouak, la giornalista palestinese l'anno scorso uccisa, sappiamo di decine di esempi. Questo per dire che in un momento di guerra la propaganda, che sia propaganda israeliana, che sia propaganda palestinese, che sia propaganda di Hamas, è qualcosa di molto molto visibile e non deve essere presa in maniera, diciamo, acritica. Mentre mi sembra che alle nostre latitudini spesso una propaganda venga presa spesso in maniera acritica. Ora, lei mi dice cosa... Sto dicendo che noi siamo portati a considerare come notizie credibili quelle che arrivano da gli informatori militari israeliani, noi cominciamo l'accidente, mentre ogni notizia che arriva da Hamas è subito e solo propaganda e finzione. Lei mi sta dicendo cosa sta succedendo nel concreto? Bene, sta succedendo quello che dicevo prima, nel senso ci sono dei bombardamenti che in piccola parte vanno a colpire Hamas, se sono in larga parte nei tunnel, ma a larghissima parte vanno a prendere civili, oltre 10.000 civili, 4.000 bambini. Sono bambini come i bambini nostri, ma le nostre latitudini spesso sembrano, diciamo, più che altro dei numeri. Ebbene, questa bombardamenti a tappeto e questa in larga parte, diciamo, non punibilità, rimarrà là. Si ricorderà, lei, dieci giorni fa c'è stata una proposta ufficiale del ministro dell'intelligence israeliana per l'espulsione di massa e definitiva di tutti i palestinesi dalla striscia di Gaza verso l'Egitto. Ebbene, oggi però non siamo nel 1948, quando vennero distrutti e in larga parte rasi al suolo 418 villaggi palestinesi. Oggi questo non è più possibile. Dunque si è avvirati verso il piano B. Qual è questo piano B? Il piano B è quello che viene paventato anche dai diversi generali e dai diversi politici in Israele di rendere invivibile la striscia di Gaza. Quindi sono state buttate 22.000 tonnellate di bombe e questo è andato a colpire anche riserve d'acqua. Lorenzo Camel dice giustamente oggi non siamo nel 1948, l'anno della Nakhba, la catastrofe, l'esodo dei palestinesi costretti a lasciare le loro case, le loro terre e rifugiarsi al di fuori della Palestina. Ci sono tuttora tanti cittadini fuggiti dalla Palestina, ripeto, da casa loro nel 1948 e che oggi vivono nei campi profughi palestinesi in Libano, io ne ho conosciuti tanti, o in Siria o in Giordania. E tra l'altro, rispetto a quel che avvenne in quegli anni, io vi consiglio questo libro tremendo, eh? Ilan Pappé, la pulizia etnica della Palestina, fazzi editore. Ilan Pappé è uno storico giornalista israeliano coraggiosissimo e ha scritto questo libro, un libro storico, su quel che avvenne in quegli anni. Ad ogni modo, tornando appunto a quel che ha detto Camel, non siamo nel 1948, non si può favorire un nuovo esodo, ma si possono fare delle altre cose, ovvero si possono rendere le condizioni di vita a Gaza così insostenibili e anche nei territori occupati, da spingere sempre più cittadini, decine di migliaia, centinaia di migliaia, di cittadini palestinesi a lasciare le loro terre, a lasciare la striscia per rifugiarsi altrove, magari nel deserto del Sinai, in Egitto, oppure in Giordania. Tant'è che le autorità giordane, parliamo dei territori occupati, hanno detto cacciare i palestinesi per noi rappresenta una dichiarazione di guerra. Ma esiste questo obiettivo? Quando i ministri fanatici israeliani dichiarano una bomba nucleare su Gaza e un'eventualità, a Mikhail Yahu, ministro del patrimonio ebraico, ha detto questa roba qui, è stato soltanto sospeso. Non è stato costretto alla dimissione, è stato sospeso. O quando il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, che sono esponenti del partito fanatico potere ebraico, senza il quale oggi il governo italiano non ci... Non sarebbe neanche nato il governo italiano. Quando dicono questo e il Itamar Ben-Gvir distribuisce fucili d'assalto ai coloni israeliani, permettendo di fatto oggi la caccia al palestinese, perché evidentemente c'è un altro obiettivo sotto, quello appunto di mandare via più palestinesi possibili e creare la grande Israele. Dunque, la lotta al terrorismo è una scusa che viene fatta oggi per fare pulizia dei palestinesi, per ovviamente fare un genocidio che è già in atto e spingere i cittadini alla fuga perché nessuno vuole morire. Ed è una tragedia incredibile che si sta consumando sotto gli occhi della comunità internazionale, che sa che quello che dico io, quello che diciamo in tanti oggi, è la verità. E per supportare ancora di più questa tesi, vi voglio leggere una parte dell'intervista che un ex premier israeliano, non certo tra l'altro un pacifista moderato perché Olmert, non è Netanyahu, ma Olmert fu premier israeliano dal 2006 al 2009 e fu lui a decidere l'operazione Piombo Fuso su Gaza, durante la quale venne utilizzato il fosforo bianco, quindi non parliamo certo di madre Teresa di Calcutta. Olmert ha rilasciato ieri un'intervista al Corriere della Sera, sentite quel che dice, corriamo il pericolo gravissimo, ripeto un ex premier israeliano, corriamo il pericolo gravissimo che Netanyahu e i suoi alleati fanatici, li chiama fanatici, approfittino della crisi di Gaza per scacciare i palestinesi da tutti i territori occupati. Rischiamo la guerra regionale per questi messianici criminali, dunque li chiama lui criminali. Quando io li ho chiamati, ho chiamato criminale Netanyahu in televisione, apriti cielo. Eh ma tu non condanni Hamas, stai con la democrazia o con il terrorismo. Pensate il livello adolescenziale delle argomentazioni di chi prende gli ordini evidentemente da Tel Aviv e non ha neanche l'umanità per denunciare, per mettersi di traverso, per fare qualsiasi cosa di fronte a un massacro, a una strage di bambini. Io questa mattina ho visto un bambino ucciso di 5-6 anni, immagini pubblicate in Palestine, e mi sembrava mio figlio. Continuiamo l'intervista di Olmert. Netanyahu e i ministri estremisti religiosi come Besalel Smotrich e Itamar Ben-Gavir non considerano la guerra di Gaza come un modo per distruggere Hamas. Lo dice un premier israeliano, un ex-premier israeliano, bensì come un corridoio perché era il caos. La fine dei tempi che per loro è parte di un disegno divino, la fine dei tempi, approfittarne per buttare all'estero i palestinesi dei territori occupati e quindi di annetterli allo stato ebraico. Per loro anche gli arabi israeliani dovrebbero essere scacciati. Israele deve annunciare subito che alla fine della battaglia contro Hamas è disposto a ritirare le truppe a Gaza. Netanyahu ha detto il contrario, ha detto la sicurezza la manterremo un tempo lungo. E a favorire è l'arrivo di una forza di pace internazionale destinata ad assumere il controllo per un tempo limitato. Va poi reso noto che noi siamo pronti a riprendere i negoziati per la partizione della Terra e la creazione di uno stato palestinese. Ora più che mai è necessario una soluzione politica, solo così la comunità internazionale potrà sostenere la nostra battaglia contro Hamas. Poteva impegnarsi quando era premier, ora è facile parlare. Ad ogni modo parla, ripeto, un ex-premier israeliano. E ancora, quanto la possibilità di smantellare le colonie in Cisgiordania? Colonie illegali, la cui proliferazione, oltre ad essere contraria al diritto internazionale, favorisce la guerra e è una delle cause della mancata pace. Questo c'è scritto nell'ultima risoluzione approvata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la 23-34-2016, quando c'era Obama, la presidenza americana e gli Stati Uniti si astendero. Una roba incredibile. E in questa risoluzione vengono condannate le colonie e il colonialismo israeliano in Palestina. Si chiama colonialismo, si chiama così. In più si dice che questo colonialismo è l'ostacolo principale alla pace. Dunque, e non è giustificare, ripeto, i fenomeni terroristici, ma è evidente che se tu fai delle cose che ostacolano la pace ci sono delle reazioni. Che io non ho mai approvato le reazioni violente, ma oggi qualsiasi reazione da parte palestinese viene subito considerata terrorismo. Ma immaginate voi di vivere a Gaza, immaginate voi di essere i padri di figli ammazzati da decenni, immaginate voi di vivere a casa vostra nei territori occupati in Cisgiordania e avere il timore di essere uccisi nella totale impunità. Immaginatevi voi, sta accadendo questo. Sentite cosa risponde appunto sullo smantellamento delle colonie Olmert. Noi ci terremo circa il 4,4% delle terre occupate nel 67, specie quelle della zona in Gerusalemme, e compenseremo i palestinesi con altre terre. Hanno tutto il diritto di avere la loro capitale a Gerusalemme Est, dice Olmert, ex premier israeliano. Le zone sensibili come il Moschè e sulla spianata dovranno essere amministrate da un ente internazionale composto da cinque nazioni, Arabia Saudita, Giordania, autorità palestinese, Palestina, Israele e Stati Uniti, sotto gli ospici dei nazi uniti. E la questione profughi va trattata nel contesto dell'iniziativa di pace israeliana. Cioè, cose di buonsenso, dette da un premier israeliano, ex premier, mentre viene fatta una carneficina. Dunque, guardiamo quel che viene fatto appunto a Gaza. Uniamo i punti. Vediamo la questione gas. Gas, quantità ingenti, è davanti alle coste di Gaza. Ministri, fanatici, estremisti, così li chiama criminali, li chiama un ex premier israeliano che sostengono oggi il governo Netanyahu, che hanno l'idea della creazione di una grande Israele, che parlano di bomba atomica su Gaza come eventualità e che distribuiscono fucili d'assalto ai coloni israeliani nei territori occupati e hanno come obiettivo quello già del partito Kakh, che è un partito che venne sciolto per terrorismo, diciamo, per via delle leggi antiterroristiche durante il governo Rabi in 1994, partito fondato da un tizio che aveva appunto l'obiettivo della cacciata di tutti i palestinesi dalla Palestina, la creazione di una grande Israele e uno dei seguaci di questo partito fu l'autore Goldstein della strage di Hebron 1994, entrò nella moschea di Hebron e uccise dei fedeli musulmani che stavano pregando. Ecco, oggi il partito potere ebraico è, come dire, il successore di una determinata ideologia e oggi membri di questo partito sostengono il governo di Netanyahu e lo dice un ex premier appunto israeliano come Olmert, che hanno questo obiettivo, sfruttare questo momento storico, sfruttare quell'attacco di Hamas, sfruttarlo, per regolare i conti definitivamente, avendo una protezione dalla parte americana e da parte dei media occidentali, dei politici occidentali, che è una vergogna. Perché se un altro paese oggi avesse questo desiderio, cioè una nuova catastrofe, cacciare di fatto i palestinesi, creando delle condizioni per spingerli appunto a lasciare la striscia di Gaza e i territori occupati, cosa sarebbe accaduto? Ma a Israele tutto è concesso, tant'è che un ex premier come Olmert chiede aiuto alla comunità internazionale, aiutateci a fermare questo progetto anche perché è contrario all'interesse stesso di Israele e contrario alla maggioranza degli israeliani. Questo dice Olmert, io non so queste percentuali, me lo dice lui. Per concludere, vi ricordo sempre questo documento pubblicato dal Ministero dell'Intelligence israeliano una settimana dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso, un documento dove si delinea l'espulsione dei palestinesi di Gaza verso il nord del Sinai, verso l'Egitto. E chissà che non ci potranno essere accordi in futuro con l'Egitto. Tu ti prendi centinaia di migliaia di palestinesi e ci aiuti in questo progetto e noi ti daremo qualcosa in cambio. Non lo so, eh? Non lo so quel che avverrà, ma sono convinto, ripeto, che come per la guerra in Afghanistan, come per la guerra in Iraq, come per la guerra in Libia, quando la Clinton diceva o buttiamo giù Gheddafi o Al-Qaeda diventerà sempre più forte e Gheddafi diceva occhio che se buttate giù me, che non ho mai difeso Gheddafi, il terrorismo islamico si rafforzerà. E aveva ragione lui, aveva ragione lui. La scusa, la lotta al terrore è stata una scusa per ottenere dei obiettivi economici, geopolitici e per qualcuno oggi, fanatico, come lo chiama Olmer, nel governo Netanyahu, esistenziale, di creazione del grande Israele, cacciata definitiva. La soluzione della costituzione palestinese è cacciare i palestinesi dalla Palestina. Pensate, c'è chi ha questo obiettivo che oggi sostiene il governo Netanyahu. Vi ho dato determinate elementi, vi chiedo appunto di unire i punti. E buona giornata.